buongiorno oggi siamo con Cristina Francucci che è docente di pedagogia e didattica dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Bologna di cui è diventata recentemente anche direttrice proprio negli ultimi mesi e che abbiamo chiamato e ringrazio ovviamente Cristina per aver accettato il nostro invito abbiamo chiamato perché Cristina è stata tra i fondatori nel 1997 di uno dei dipartimenti più importanti che costituiscono l'istituzione Mambo e prima la Galleria d'Arte Moderna di Bologna che è il Dipartimento Educativo. Il Dipartimento Educativo è sicuramente una delle attività fondamentali nell'azione di questo museo anche riconosciuta all'esterno come uno delle delle punte di diamante dell'azione del museo questo fin dalla sua nascita e siccome Cristina è stata tra le ideatrici e tra coloro che hanno scritto le strategie le linee di azione di questo dipartimento abbiamo pensato che fosse molto interessante e significativo chiedere a lei una riflessione su come è partita questa idea come è partito il Dipartimento Educativo come si è si è sviluppato come è nato nei primi anni e poi anche come ha saputo modificarsi non dimentichiamo che nel 97 la Galleria d'Arte Moderna era un'altra istituzione con un altro nome in un altro luogo e poi si è trasferita in quello che adesso tutti conosciamo come Mambo all'interno del nuovo Forno del Pane e il Dipartimento Educativo ha seguito questa genesi e questa evoluzione dell'istituzione quindi grazie ancora Cristina per essere con noi e partirei subito da questi aspetti fondamentali. Grazie Lorenzo avermi invitato mi fa molto piacere essere con te qui oggi e sì beh la nascita devo dire dell'attuale Dipartimento Educativo è stata un'avventura veramente veramente emozionante io ancora quando ci penso mi emoziono devo dire dobbiamo andare molto indietro nel tempo come dicevi tu perché oltre vent'anni fa e arriviamo al 1997 quando io e Marco Dallari siamo andati dall'allora direttore Danilo Ecker a fare una proposta di un progetto proprio di creare quella che poi a suo tempo si chiamava così la sezione didattica perché questo è il nome di termine che si usava a quel tempo e in realtà avevamo anche il sostegno portavamo anche il sostegno di una società privata che appunto avrebbe finanziato tutta la nostra attività la nostra operazione una cosa che per esempio adesso sarebbe una cosa assolutamente no da auspicare a quella volta invece diciamo che il rapporto fra pubblico e privato poi non era come dire no così così scontato perché era stata le regge Ronchei che aveva insomma creato un po' un po' di confusione su questa dimensione degli appalti delle cose e quindi a volte cioè all'inizio siamo anche stati visti con un po' di sospetto no rispetto a questa cosa però abbiamo iniziato questa cosa e scontato non era questa idea il sostegno di anche di Danilo Ecker è stato fondamentale perché non esistevano attività laboratori in Italia quel poco che c'era era un servizio di visite guidate no che venivano fatte all'interno i musei il più delle volte anche dai o dai direttori o dai curatori ma non c'erano persone no deputate a fare questo in più la nostra era ancora più rivoluzionaria la cosa perché avevamo pensato e volevamo proprio costruire un laboratorio quindi uno spazio dove fare dove conoscere l'arte attraverso il fare attraverso cioè scoprire quello che è il processo creativo no che e quindi e non soltanto fermarsi a conoscere l'opera d'arte no come già definita no ma vedere tutto quello che c'è prima quello che lo viene di fine appunto un processo creativo questo eh questo aspetto ancora cioè era talmente innovativo perché pensiamo che nel progetto per esempio di ehm eh di Pancaldi no di Leone Pancaldi del fatto del 75 non era assolutamente previsto uno spazio adesso noi ci no ci sembra impossibile che ci possa essere un museo senza uno spazio didattico ma a quel tempo era così tant'è vero che abbiamo riutilizzato uno spazio che non so se fosse anche una sorta di magazzino che però abbiamo rielaborato rimesso a posto poi ti dirò che alla fine era anche una bella cosa per esempio un'altra cosa interessante secondo me è anche innovativa che abbiamo per esempio subito modificato questo eh fa parte un po' di quella che è stata una metodologia che abbiamo applicato da subito per esempio quello che si chiamavano le visite guidate abbiamo cominciato a chiamare visite animate animate perché per dare da una parte no questo importanza sempre di più all'interazione con il fruttore no quindi con il pubblico come la visita ma anche per rendere proprio chiaro qual è il ruolo anche del adesso si chiamerebbe mediatore no quella volta o educatore museale poi anche questo si è modificato il nome del ehm per rendere anche chiaro che quello che eh può fare a lettura di un'opera d'arte è sempre un'interpretazione non una spiegazione cioè l'importanza è essere consapevoli quando si fa questo mestiere di questo no che comunque l'opera d'arte appunto è una eh un testo ambiguo no dove devi pensare a dare tu eh a sapere di che potrai dare un'interpretazione ma anche a rispettare le interpretazioni che i partecipanti no a questa eh a questo atto a questa cosa della lettura possono avere ecco quindi questo già eh era come dire no un momento importante di un nuovo concetto anche verso il pubblico perché poi chiaramente non c'erano queste attività idrati ma perché anche il museo era visto in modo diverso no non c'era questa attenzione ancora visto molto come uno spazio dove si conservano le opere si si fanno le mostre ma senza preoccuparsi del pubblico eccetera poi noi lì abbiamo incominciato però a fare un'attività che con le scuole diciamo che ehm era abbastanza nuova ma è stato abbastanza facile il rapporto incominciare un rapporto con le scuole con invece l'utenza libera la famiglia eh le cose quelle è stato proprio anche questo del tutto nuovo aveva mi ricordo che facevamo le eh domeniche in galleria eh dove la prima domenica in galleria era venuto un genitore e abbiamo fatto quindi poi è stato proprio un crescere no un crescere cercare sempre di mantenere però una qualità no di di anche creare un pubblico quindi esatto creare un pubblico un pubblico anche che potesse imparare a vedere la il museo come un luogo familiare cosa che eh voglio dire ci sei arrivati dopo tanto tempo però iniziare su questa su questa idea no poi diciamo che c'era anche la questione del dell'essere no come eh lontani dal centro e sappiamo che per i bolognesi fare passare oltre il ponte della stazione oppure via Stalingrado e sempre vedere come cioè non è così lontano ma è sempre stato visto come andare in periferia no il più totale invece era un progetto anche molto interessante lì no di cosa però eh per esempio tante volte io mi ricordo abbiamo avuto delle mostre meravigliose tipo non so Gilbert and George Hansel Kieffer eh o piuttosto Schnabel con pochissimi numeri di di presenze no rispetto proprio anche questa cosa però anche perché poi già magari se andavano poco in museo più l'arte contemporanea ancora di più visto come un periodo dell'arte ancora più appunto difficile no da da richiamare il pubblico quindi eh però siamo andati avanti e e improvvisamente proprio si è creata questa situazione invece eh di fidelizzazione da parte delle scuole da parte del pubblico tanto che adesso mi è veniva in mente prima eh di che ci siamo prima di 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 contattarci mi è venuta in mente una cosa che avevo fatto una scommessa proprio con Danilo Ecker e mi ricordo benissimo che facciamo questa scommessa che lui mi disse ma ce la fai arrivare a diecimila presenze no e io dissi no arriverò a quindicimila presenze prima e in realtà fu un lavoro massacrante l'anno proprio che poi è finito il suo mandato siamo arrivati a quindicimila presenze e abbiamo festeggiato questo questa cosa questo risultato con un evento eh pazzesco che devo dire non eh sì non si è potuto mai più ripetere che abbiamo chiamato questo evento si chiamava occhio al museo perché noi poi producevamo anche libri d'arte per ragazzi con questa società e infatti facciamo anche un libro che si chiamava occhio al museo dove c'era questa l'idea di far conoscere ai ragazzi eh quello tutto ciò che eh praticamente non si vedeva del museo no e retroscena dell'attività museale e poi pensa che quindi tutta un'attività in questo senso poi per tre a tre giorni e qui non so come Danilo mi ha dato questa possibilità si fidava per tre giorni abbiamo fatto cioè c'erano ragazzi di qualunque età che portavano facevano le visite loro abbiamo fatto incontri con gli artisti mi ricordo che venne Zorio eh i ragazzi li presentavano loro cioè praticamente tre giorni in cui i ragazzi gestivano totalmente il museo in tutti gli aspetti con eventi continui non ti dico quello è stato veramente credo il punto perché sai genitori bambini tutti cioè le famiglie e quindi hanno scoperto da lì in poi siamo andati sempre eh cioè aumentando le cose poi ecco eh nel 2001 è successa un'altra cosa importantissima ehm cambiamo anche il direttore perché dopo di me è Peter Weiler-Mayer che era il direttore in quel momento che abbiamo partecipato a un progetto europeo e abbiamo vinto e questo per noi eravamo fu una cosa cioè un entusiasmo ma come chi avrebbe mai pensato di poter quindi abbiamo fatto questo progetto che si chiamava di D'Art di D'Art eh sentire e capire l'arte contemporanea dove eravamo avevamo come partnership eh come partner tantissimi musei di arte contemporanea molto importanti quindi era un progetto di cultura duemila ma anche quello cioè pensare che questi musei si avrebbero no seguito perché noi eravamo i capofila di questo progetto e quindi c'era non so il chiasma di Helsinki, Louisiana di Copenhagen, non so Ludwig di eh Colonia, poi a Berlino l'uso d'arte contemporanea cioè quindi una cosa veramente che di e questo è stato fondamentale per cosa? Fondamentale perché abbiamo avuto dei fondi per la ricerca, la possibilità di un confronto eh con le buone pratiche a livello internazionale no e che comunque all'estero sappiamo che queste cose sono state sempre un po' più avanti di noi poi una cioè quindi è stato proprio e dei progetti importanti creare una rete perché c'era un sito e quindi a quel tempo anche queste erano tutte cose molto molto innovative adesso non sembra ma eh creare una rete e abbiamo anche creato i primi laboratori online quindi eh anche questo che non c'erano proprio a livello europeo e ehm e quindi niente fu una una grande esperienza potremmo girare avere contatti e questo durò per otto anni quindi abbiamo vinto eh quattro edizioni eh stato con un anno di questi è stato anche considerato uno dei migliori progetti sulla didattica dell'arte e e quindi insomma fu veramente un un grande successo un grande momento eh per tutti noi contemporaneamente poi un altro aspetto secondo me fondamentale nella proprio nella costruzione del dipartimento è stato poi che abbiamo questo contatto continuo e scambio e confronto con l'accademia perché in realtà eh dall'inizio da quando l'accademia anzi l'accademia abbiamo creato un dipartimento di comunicazione didattica dell'arte che no un triennio con un biegno di corsi che forma figure professionali proprio come mediatori dell'arte è nato proprio sull'esperienza del dipartimento educativo no della sezione didattica diciamo che poi diventa quindi anche questo è stato estremamente importante le stesse persone che lavoravano no al museo poi insegnavano e potevano parlare di un'esperienza fondamentale provata sul campo come anche poi una possibilità di fare i tirocini quindi formare no le persone eh che poi sono diventate a volte hanno proprio sono state poi eh tuttora lavorano all'interno del dipartimento educativo del mambo no quindi questa anche questa importanza di da una parte l'esperienza e dall'altra no l'idea di teorizzare di eh di costruire il pensiero il metodo e questo questa cosa proprio questi basi comunicanti sono stati veramente molto importanti poi è arrivato Gianfranco nel 2005 è arrivato Gianfranco che assolutamente era cioè sempre sostenuto e quindi era anche un direttore giovane con una voglia di 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 fare cose nuove quindi e e poi l'importante del passaggio no alla preparazione al passaggio al nuovo museo e anche lì abbiamo delle caratteristiche cioè un cambiamento un altro voglio dire il terzo cambiamento veramente importante che è del fatto che intanto il nuovo museo aveva uno spazio no pensato e dedicato quindi uno spazio eh che poi era eh a piano cioè sul sul giardino quindi con una possibilità anche di uscita con di fianco come adesso no con di fianco la sala conferenze che comunque è un altro luogo no deputato al pubblico quindi alla eh la la il fatto che per esempio abbiamo potuto con Gianfranco anche come dire modificare quelle quelle parti dello spazio che altrimenti no magari un un direttore o un o un un architetto ci sono cose che è importante è fondamentale poter parlare con le persone che lavorano all'interno di uno spazio per poi costruirlo no nel modo giusto soprattutto quando parliamo poi di didattica di educazione perché io sono una grande sostenitrice del fatto proprio di considerare l'ambiente lo spazio come il terzo educatore no cioè come cioè quello che si apprende dalla proprio dal dal vivere in un ambiente è molto 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 importante e anche eh come dire eh molto significativo no rispetto proprio a una propria acquisizione di eh di sensazioni di competenze ma questa cosa poi ci portò anche a cambiare un'altra cosa fondamentale il nostro nome perché passiamo da sezione didattica a dipartimento educativo e anche questo è molto significativo no perché la didattica era sempre vista come qualcosa no una una comunicazione rivolta principalmente alle scuole no e comunque come un passaggio di competenze no il far acquisire delle eh delle conoscenze sull'arte l'idea invece di educazione è qualcosa di più che è stato poi un punto fondamentale no anche eh per tutto il nostro lavoro cioè l'idea che l'arte può proprio diventare un uno strumento educativo cioè no quindi che le poetiche degli artisti eh che l'opera d'arte diventa proprio un tuo come dire eh bagaglio di esperienza che ti può essere utile per guardare la realtà no la la realtà di tutti i giorni in modo più critico consapevole no quindi rispetto alla quotidianità rispetto al al divenire no del eh di quello che è la società i cambiamenti eccetera quindi anche questo ha ci ha portato a lavorare in un certo eh in certo modo ampliare anche molto di più la formazione e tanto è vero che abbiamo iniziato eh con un l'ultimo eh uno degli ultimi progetti fatti con di dart eh che fu proprio questo in occasione della mostra tra l'altro di Vertigo che inaugurò no ehm fatta da terra gli spazi del mambo certo la nuova spazi del mambo facciamo questa cosa un'esperienza molto bella di formazione cioè facciamo un bando europeo perché era sempre da dove furono selezionati eh studenti eh che volevano fare che con l'obiettivo che avevano intenzione in un futuro di fare avere fare questa professione di educatore museale verrono selezionati no per eh e e e uniti cioè abbiamo fatto 15 giorni quindi selezionati per aprire un dibattito e una discussione con esperti con artisti con che durò appunto 15 giorni su qual era la come dire il vero percorso formativo per creare queste figure perché anche questo che è un punto secondo me chiave che bisognerebbe anche adesso eh rifletterci ancora perché non non è un ruolo che ancora è stato così così ben definito e questo si vede anche nei concorsi no che non non anche per esempio il concorso anche questa è una cosa fondamentale perché quando arriviamo al mambo poi dopo finalmente potremmo abbiamo potuto entrare nell'organico ma adesso dicevo queste figure che professionali cioè queste questa esperienza di 15 giorni che finì poi con un convegno eh importantissimo che venne gente eh da tutta Europa grazie poi ai fondi della comunità perché se no non ho potuto farlo e quindi anche questa fu una cosa ma dicevo questo ruolo importante perché per esempio poi un altro aspetto fondamentale è che noi passammo ci abbiamo avuto un momento in cui come dicevo fino a che siamo stati alla gamma eravamo finanziati cioè sostenuti da questa società dopodiché anche questa la dice lunga no dopo la società ehm ci abbandonò perché avevano altri obiettivi e altre cose e rimanemmo sei mesi con una paura terrificante di eh di perdere tutti questi anni di di attività tutta questa esperienza perché per fortuna sono cioè ci ha aiutato la fondazione Carisbo no e e quindi ha finanziato il nostro posto proseguire e arrivare al al mamma però per dire solo quando siamo arrivati quindi stiamo parlando oltre il 97 nel 98 si è potuto cioè il comune ha eh come dire preso no coscienza perché era arrivato il momento arrivati i tempi giusti per destinare dei fondi eh per questa attività e creare anche una figura che potesse essere all'interno di un organico del comune che questo mi ero molto abbattuta per questa cosa perché vuol dire proprio il cambiamento no capire che è un servizio assolutamente integrato no in tutto e per tutto all'interno no di una di una struttura comunale quindi può partecipare in modo attivo no anche rispetto a queste cose perché fino a quel momento in fondo non c'era stato neanche questo ecco per capire che magari sembrano tutte queste cose no lontane nel tempo ma è possibile che invece no è così la realtà è questa è come dico ancora e quando fecero il concorso per questo posto come responsabile del dipartimento non fu un concorso su quella figura ma credo un concorso tipo per curatela o qualcosa non su eh una figura che doveva diventare responsabile di un dipartimento e quindi essere preparata in un concetto legato alla mediazione dell'arte alla comunicazione dell'arte e quindi questa cosa insomma è interessante vedere l'evoluzione perché l'evoluzione della chiaramente del di quello che è il dipartimento educativo è assolutamente collegata all'evoluzione del del museo e del e dei cambiamenti che il museo in tutti questi anni per fortuna ha avuto no come promotore anche di dialogo con il pubblico di proposte culturali e qui voglio dire che eh questa cosa del questo tuo progetto no del nuovo forno del pane è proprio come dire fa capire come lentamente c'è anche un'ulteriore trasformazione no dove forse la dimensione di educativa e quindi l'educazione entra a far parte in modo integrale integrale proprio con la con l'arte no e quindi anche questa operazione questa esperienza che tu hai fatto fare a a questi ragazzi a questi 13 ragazzi ma anche questo progetto ma anche al pubblico che poi ne viene a contatto è proprio quest'idea l'idea che in fondo abbiamo sempre avuto noi cioè l'idea di far vedere no quello che è non l'opera finita ma il processo creativo che la forma che è questo stato sempre un po' alla base no del nostro lavoro grazie mille grazie cristina grazie personalmente anche per quanto hai detto sul nuovo forno del pane che è sicuramente toccando alcuni degli aspetti che hanno portato poi la definizione di questo progetto quindi grazie mille per il tuo intervento e grazie anche per il tuo lavoro e sono sicuro che anche questo contributo servirà a far capire quali sono alcune delle linee fondamentali che hanno portato alla definizione dell'istituzione Mambo per come la conosciamo noi di oggi grazie mille